Come è il rapporto di Prefettura? Bisogna, lo dico sempre ma non è una frase oscura, è una frase molto chiara, bisogna che tutti assumano il livello di responsabilità che ci siamo assunti noi, che non è che c'è qualcuno che è più responsabile, è qualcuno che può fare finta di niente. Grazie Grazie